Oh, povera bambina, poverina, perché stai piangendo come una disperata? Ha un problema molto serio, fratello, l'hai dimenticato? Hai ragione per un pacco, eh, 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 eh. Chi... chi siete? Chi siamo noi due? Questa sì che è una bella domanda, siamo due braci destre di una persona che può avverare i tuoi sogni, bambina mia. Prova a immaginare, tu e il tuo principino, insieme, per sempre. Di chi state parlando? Ursula, la strega del mare, lei può aiutarti, non ti interessa? La strega del mare? Sì, bambina. Ma cosa? No, non potrei mai. Perché? No, andate via, lasciatemi in pace. Beh, fa come vuoi. Tanto il papà non l'ascolterà mai, vero, fratello? Aspettate. Sì?